Abbiamo un Presidente del Consiglio che dice esplicitamente evito di sentire gli italiani perché so che non sono d'accordo, così vado avanti lo stesso. Fa una roba incredibile, ecco, se gli italiani verranno scippati dal referendum sul nucleare, avendo ascoltato le parole del Presidente della Repubblica, penso che abbiano un'occasione. Abbiamo le elezioni amministrative, gli italiani avranno una scheda in mano. Ormai avranno capito che se vogliono liberarsi al nucleare, devono liberarsi anche di Berlusconi. Credo che questa sia la sostanza.